Il killer ha raggiunto la vittima fin dentro la sua camera da letto, dopo essersi fatto aprire la porta di casa. Dopodiché ha esploso due colpi di pistola, una calibro 7,65, centrandola due volte all'addome e lasciandola organizzante nel suo letto, sotto gli occhi del figlio di soli due anni. E questa, secondo gli inquirenti, la ricostruzione dell'agguato è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 ad Altamura, al terzo pieno di una palazzina popolare in Piazza Generale Alberto dalla Chiesa. La vittima è Francesco Cammisa, di 27 anni, pregiudicato e già sottoposto a regime di sorveglianza speciale per reati di droga. Con lui erano in casa la moglie al quinto mese di gravidanza e suo figlio. Il killer ha il volto coperto da passamontagna, suona la porta, gli aprono, poi si dirige in camera da letto, dove trova Cammisa con gli occhi fissi su un computer. L'assassino esplode due colpi che vanno a segno e poi corre verso la porta d'ingresso. La moglie del 27enne corre a sua volta verso di lui, gli urla qualcosa, ma viene scaraventata a terra sul pianerottolo. Dell'agguato si stanno occupando in queste ore i carabinieri della compagnia di Altamura e quelli del comando provinciale di Bari. Si indaga principalmente sul passato dell'uomo legato agli ambienti dello spaccio nella città murgiana. Forse un regolamento di conti o uno sgarro pagato a caro prezzo, dalla giovane vittima e di riflesso anche dalla sua famiglia.